Ipertensione arteriosa borderline, forse potrebbe esserti utile la teanina. La teanina è un particolare aminoacido naturale, la cui principale fonte è rappresentata dal tè. Nel dettaglio, per essere più precisi, risulta essere particolarmente presente nel famoso tè verde o tè maccia, ma anche in quello nero c'è in quantità abbastanza sufficiente. La teanina assomiglia all'aminoacido glutammina e in particolar modo all'aminoacido gamma-aminobutirrico o GABA e all'acido glutammico, due importantissimi neurotrasmettitori del nostro sistema nervoso. La teanina, anche se non ci sono sufficienti studi a comprovare questa sua funzione, ha dimostrato delle proprietà rilassanti, sedative, ansiolitiche, proprietà coadjuvanti la chemioterapia antitumorale e, per quel che riguarda il sistema cardiovascolare, proprietà ipotensivanti, anche se sono state osservate solo in modelli sperimentali. Ha inoltre proprietà neuroprotettive e proprietà immunostimolanti ed immunomodulanti. La proprietà più conosciuta, più nota e più pubblicizzata dalla teanina riguarda soprattutto gli effetti rilassanti antristress e ansiolitici. Ciò non toglie il fatto che ha un effetto ipotensivante, è stato dimostrato, non fosse altro che per il fatto che il sistema nervoso entra ed ha un ruolo fondamentale nella genesi dell'ipertensione borderline. Tali proprietà sembrano imputabili alla capacità di questa sostanza di fungere da substrato indiretto per la sintesi del GABA, il precursore endogeno del GABA, infatti l'acido glutammico. Il GABA, anche noto come acido gamma-ammino-butirrico, è un neurotrasmettitore ad azione inibitoria che promuove la sensazione di rilassamento. Non a caso, molti farmaci ad azione rilassante selettiva o miorilassante, ipnotica addirittura, agiscono stimolando i recettori appunto del GABA. Abbastanza importante è che la teanina sembra esercitare la sua azione rilassante senza però provocare sonnolenza o alterare l'attenzione o la capacità appunto di concentrazione. Tutti questi fenomeni infine sono utili per generare, per quel che riguarda il sistema cardiovascolare, uno stato ipotensivante quando l'ipertensione arteriosa, e spesso lo è, non sembra essere causata da un danno o da un'alterazione del sistema cardiovascolare, ma sia correlata piuttosto a un transitorio periodo di ansia o di stress particolare. L'attività modulatoria nei confronti dei recettori per l'acido glutammico giustificherebbe in parte l'azione anti-ipertensiva centrale della teanina. Questa attività potrebbe quindi ridurre i danni sia cerebrali che cardiaci correlati all'ipertensione arteriosa. Ragionevole per cui assumere teanina o attraverso il tè o attraverso un integratore può essere utile nel gestire una ipertensione borderline. Il tutto sempre controllato da persone estremamente competenti.